Andrea Burzacchini, Friburgo, Germania. Quelle della mia generazione ricordano un vecchio scherzo di Michele Serra sul Partito Comunista, sul PC, che diceva ogni incontro delle sezioni incomincia con la situazione internazionale, la situazione nazionale, la situazione provinciale, la situazione comunale, la situazione del quartiere. Beh, io sono arrivato con sei ore di ritardo perché a venerdì sera sono stato a fare un'attività con i prof. sieriani accolti nel mio quartiere a causa della situazione internazionale. Io ringrazio Francesco, Alessandra, Ilaria, Federico e tutti i PD di Bruxelles, anche quelli che stanno dietro le quinte, per aver organizzato questa cosa in cui per due giorni abbiamo discusso esattamente di questo. I workshop sull'immigrazione, sul cambiamento climatico, sull'Europa sociale, sulla scelta economica, trattano esattamente di questo, delle relazioni che noi abbiamo tra la politica internazionale con quella che è la vita di noi cittadini nelle nostre strade, nei nostri territori. Ed è veramente questa una cosa straordinaria e questo, Francesco, il partito di cui abbiamo bisogno, sono questi i momenti in cui abbiamo bisogno, che possano anche permettere di nuovo in questo partito di avere di nuovo ossigeno, impegno, tessere anche, che si fermano. Non persone, non il partito dell'eterna lotta per i piccoli posti, delle lotte tracorrenti, di persone che si fermano per votare una volta le primarie e poi dopo non si vedono più. Per cui, veramente, grazie per momenti come questi. E in modo a tutti gli invito di venire a trovarci a Friburgo per avere degli scambi. Daniele sa che si mangia abbastanza bene, anche se il clima non è sempre migliore di quello di Bruxelles. Però venite quando volete. Grazie mille a tutti e a voi.